Istituire un servizio di elisoccorso a Sulmona per garantire il servizio di emergenza alle partorienti, qualora venga soppresso il punto nascita. La proposta arriva dal coordinatore provinciale del nuovo centrodestra Massimo Verrecchia. Qualora permanga la decisione di eliminare il punto nascita di Sulmona, sostiene Verrecchia, la Regione Abruzzo si impegna all'istituzione di un punto di elisoccorso attrezzato, proprio nel capologo Peligno. Questo per venire incontro alle emergenze dovute ai parti e garantire un'assistenza sanitaria ad alto livello di intensività, con tempi di intervento molto rapidi, specie in località situate in punti che riteniamo critici per garantire la sicurezza ai nascituri e alle loro madri, come per esempio Barrea e Castelli Sangro, e permettere un veloce trasporto alla struttura ospedaliera idonea. L'esponente provinciale del nuovo centrodestra chiede che la proposta di istituzione del servizio dell'elisoccorso a Sulmona sia sostenuta subito. In vista intanto dell'incontro di questa sera con i sindaci del governatore Luciano D'Alfonso, il consigliere comunale di Sulmona di Forza Italia Luigi Lacivita si augura che l'incontro non sia il solito modo apparente di affrontare i problemi del punto nascita e se da una parte afferma siamo in attesa di conoscere l'esito dell'interrogazione urgente presentata dalla senatrice Pelino il 25 febbraio scorso al ministro della salute Lorenzin, dall'altra ci auguriamo che dall'incontro di questa sera scaturisca una posizione chiara, precisa e incisiva a favore del mantenimento del punto nascita. Confidiamo, prosegue Lacivita una volta per tutte, che anche i rappresentanti delle istituzioni locali dimostrino di avere maggiore peso specifico nelle determinazioni del governatore che finora ha brillato esclusivamente nella solita retorica, a lui congeniale e a noi ben nota. Ci auguriamo quindi che il sindaco Ranalli e il consigliere regionale Andrea Gerosolimo questa volta abbiano preventivamente condiviso con il presidente D'Alfonso una soluzione al problema determinato dall'operatività del decreto. Abruzzo Civico e il Partito Democratico, sia regionale che locale, appena rinnovato nei suoi quadri dirigenti devono ora assumersi le responsabilità che gli competono. Speriamo infine, conclude Luigi Lacivita, che la presenza dei sindaci del territorio non sia l'ennesimo tentativo di coprire le vere responsabilità del Partito Democratico principale partito di governo al quale anche il sindaco Ranalli appartiene.